Ciao a tutti e agli amici di Ritratti Contemporanei da Nicky e Lely Picard. Sono qua a raccontarvi la mia opera in cui troviamo questo uomo col cappello che si trova di fronte a un amico, appunto dalla serie Tu per Tu con. Questo amico che è un ritratto, rappresentato in un ritratto, in un ritratto che ha luogo, che accade, che vive oggi, quindi appunto è per questo divenne un ritratto contemporaneo. Come possiamo vedere tra i due ci si trova un palloncino, il palloncino che rappresenta il sogno, quindi è un mezzo per vivere contemporaneamente oggi e sempre un'amicizia, una grande amicizia che può essere portata con sé per sempre. Saluti a tutti, ci vediamo a Ritratti Contemporanei. Ciao a tutti!